Cari ragazze e cari ragazzi, la fotografia si sposa perfettamente con la parola scritta, l'arricchisce, l'accompleta. Questo è un esercizio stimolante e divertente. Leggere le immagini e fotografare le parole. Dal libro L'Arminuta potrete trarre tanti stimoli visivi, concettuali, adatti ad essere trasformati in immagini. Vedrete delle foto di artiste e artisti contemporanei che abbiamo selezionato per farvi riflettere sul come sviluppare i vostri scatti. Raccontare una storia con delle immagini? Perché no? Io ci ho provato tante volte. Aspettiamo le vostre. Buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.